diritto di là dove esce l'acqua non viene via viene via non viene via non viene via aiaiaiaiai paloma aiaiaiaiaiai ma questo va su? non è che chissà quanto però dipende se vai nel fiume dovrebbe andare su perché il problema è che dipende da cosa trovi non cambi niente perché da qua passi anche sopra ma dopo dipende com'è davanti no perché questo è un sentiero è comunque